ragazzi benvenuti in questo video italia che non si è qualificata ai mondiali del qatar 2022 stiamo tutti cercando di smaltire la delusione e l'amarezza che abbiamo provato giovedì sera ma veramente è molto difficile parlo anch'io personalmente io ci sono rimasto molto male infatti giovedì sera non me la sentivo di fare il video poi venerdì non ho avuto tempo per farlo e ci troviamo oggi sabato un po in ritardo però non potevo non fare il video sulla nazionale appunto usciamo con la macedonia perdiamo 1 a 0 scandaloso una partita veramente assurda da tutte le occasioni che abbiamo avuto al golpe preso al 93esimo minuto comunque prima di iniziare a parlare faremo un'analisi e una riflessione su questa partita e sul percorso della nazionale vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella molto molto importante siamo arrivati a 1200 iscritti speriamo che youtube me li confermi e non me ne tolga qualcuno come al solito comunque vi ringrazio e lasciate un bel mi piace al video mi raccomando arriviamo a 25 30 like scrivetemi qua sotto un commento su cosa ne pensate di questa disfatta clamorosa comunque andando a parlare della partita italia che alla fine non gioca male gioca sicuramente un buon calcio però c'è sempre il solito problema che problema è non si riesce a concretizzare si arrivano gli ultimi 15 10 20 metri e non si riesce a concretizzare si sbagliano i passaggi decisivi si tira fuori si tira male il portiere fa le grandi parate non si riesce a concludere insomma sta palla non vuole entrare ottimo possesso palla quello che volete tanti passaggi tutto però non si riesce a concretizzare infatti abbiamo tenuto praticamente tutto il tempo la palla noi loro non hanno fatto un tiro in porta però noi arriviamo lì gli ultimi 10 20 metri cross si sbaglia il passaggio filtrante si sbaglia tiro davanti alla porta si sbaglia veramente non riusciamo a buttare dentro sto maledetto parlo pallone ovviamente anche immobile in signa ad esempio hanno giocato male quindi loro sicuramente non ci hanno aiutato l'unico davanti positivo berardia che si è sbagliato un gol pazzesco però comunque ha creato tanto diciamo il migliore dei tre però proprio a livello offensivo è un disastro un disastro perché pochissimo cinismo non buttiamo dentro un pallone infatti serve una vera e propria rivoluzione entrato bene raspadori ma lì davanti bisogna proprio cambiare completamente tutto perché così non va bene all'europeo non abbiamo trovato sta grande difficoltà nel segnare ma ad esempio nelle qualificazioni nel girone con la svizzera sì anche con la svizzera ma anche con le altre squadre tipo il pareggio con la bulgaria con le squadre piccole diciamo che si chiudono indietro noi non riusciamo a tirarle fuori facciamo una fatica bestia a segnare e giovedì sera si è visto tantissimo quindi secondo me anche i giocatori di qualità ci sono però proprio nella fase offensiva quando bisogna concretizzare quando bisogna concludere in porta è un disastro non si riesce quindi sotto quel punto di vista sicuramente bisogna intervenire pesantemente poi diciamo anche rispetto agli altri anni c'è c'è proprio un problema grosso perché partendo da anni anni fa 2006 l'Italia vince il mondiale 2010 si qualifica ma viene eliminata al primo turno 2014 stessa cosa ma viene eliminata al primo turno 2018 non si qualifica e 2022 appunto non si qualifica quindi dal 2006 in poi il capitolo mondiale è stato veramente un disastro sei partite in dal 2010 i prossimi che faremo saranno forse quelli del 2026 quindi cioè vabbè facciamo con quelli del 2022 in 12 anni sei partite abbiamo giocato sei partite perché 2010 eliminati al primo turno quindi tre 2014 eliminati al primo turno quindi tre tra l'altro con squadre non forti abbiamo giusto vinto una partita contro l'Inghilterra ma poi abbiamo perso Uruguay Costa Rica pareggiato con il Paraguay con queste squadre qua quindi veramente negli ultimi anni dal 2006 in poi i mondiali un disastro quindi Mancini che non ha saputo gestire la squadra i giocatori a fase offensiva siamo scarsi però è proprio un problema di di fondo che continua da tanti anni quindi sicuramente bisogna intervenire adesso si vedrà quali sono i principali problemi sicuramente anche Mancini ha sbagliato lì davanti dobbiamo concretizzare di più però se perdiamo contro la Macedonia del Nord se non riusciamo a qualificarci con un girone abbastanza facile evidentemente ci sono vari problemi non non solo uno ecco comunque fallimento totale e la beffa arriva al novantesimo giustamente dominiamo tutta la partita facciamo 50 tiri ma non siamo cinici non siamo concreti non riusciamo a buttare la palla dentro arriva la beffa prima volta praticamente che la Macedonia supera la metà campo ci beffa controllo i tra i coschi se la porta sul se la porta sul destro da fuori area tiro di destro incrociato per carità molto bello all'angolino però cioè comunque non si può prendere un gol così anche lì Donnarumma forse non perfetto ma non dico che fosse facile però anche Mancini lì che sta aspettare non attacca l'avversario e prendiamo gol così a due minuti dalla fine dopo una partita che abbiamo passato praticamente quasi tutta la partita nella loro metà campo ci prendiamo la beffa così ma è anche giusto è è meritato cioè non non rispecchia diciamo l'andamento del match però è meritato perché è meritato anche per i mesi prima perché noi non riusciamo a qualificarci direttamente con un girone facile eravamo anche di forti della svizzera poi a me giorginio che si mette a sbagliare i rigori ma quello assolutamente non è colpa colpa di tutta la squadra se non ci siamo qualificati però andiamo ad esempio a incappiamo in un pareggio con la bulgaria e già questo ci complica ci complica tantissimo le cose poi ci va di sfortuna nei sorteggi dei playoff becchiamo la macedonia del nord che è un avversario abbordabilissimo non sono scarsi molto compatti in difesa però l'italia è molto più forte la macedonia del nord anche andando a vedere il ranking noi siamo sesti loro 85 esimo 86 esimi mi sembra quindi c'è una differenza veramente abnorme però non riusciamo a segnare in 95 minuti non riusciamo a fare un gol neanche un gol alla macedonia del nord questo è veramente imbarazzante quindi ce la siamo andate a cercare insomma se non riusciamo a fare un gol in 95 minuti con la macedonia del nord se pareggiamo con la bulgaria buttiamo via i punti i gironi alla fine meritiamo di uscire perché questa non è l'italia che si è vista all'europeo avere anche un po' di fortuna abbiamo vinto due partite di rigore contro spagna inghilterra però quella che si è vista all'europeo è una grande italia comunque abbattuto appunto queste due squadre anche il belgio i gironi li ha passati da prima brillantemente fatto delle belle partite però questo è proprio è proprio il fantasma dell'italia che si è vista agli europei non so veramente cosa sia successo giocatori che sotto vanno dalle partite mancini anche con una prepara bene poi anche i convocati sono da rivedere ha lasciato fuori ad esempio zaccani zaniolo scamacca quindi ci sono vari problemi che sicuramente sono da risolvere adesso mancini è in discussione non sa bene se dimettersi o no si fanno già tanti nomi come lippi cannavaro gattuso ranieri comunque magari andremo a vedere tutto e analizzare meglio in in un altro video però rimane la disfatta quindi per 12 anni almeno 12 anni perché dobbiamo vedere se nei mondiali del 2026 ci qualifichiamo 12 anni l'italia senza mondiali stiamo seduti sul divano a guardare le altre squadre giocare alla tv appunto quindi veramente uno scandalo pazzesco una squadra che vince l'europeo ditemi voi come fa a non pericarsi per i mondiali ditemi voi una squadra che vince l'europeo con giocatori forti come fa a pareggiare con la bulgaria e a perdere con la macedonia del nord a non fare un gol in 95 minuti con la macedonia del nord che con tutto rispetto era molto ma molto più scarsa di noi quindi veramente un fallimento epocale una disfatta cosmica e niente è tutto da rifondare poi tra quattro anni dovremmo avere una squadra completamente diversa anche con i giocatori non giovanissimi che non troveranno più spazi ovviamente caleranno anche di forma fisica serve una nuova italia quella dell'europeo è stata pienamente convincente secondo me abbiamo anche meritato di vincere l'europeo però abbiamo fatto un passo indietro veramente gigantesco e non va bene assolutamente non va bene comunque io direi di chiudere qui il video mi raccomando un bel mi piace vi ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento si giocherà martedì italia turchia partita che non serve a niente però si giocherà lo stesso comunque turchia che ha perso qui in portogallo comunque io vi saluto vi auguro una buona giornata ci vediamo con un prossimo video bella